Aria inquinata in modo insolito ed elevato a Cremona. Le polveri sottili PM10, solitamente alte d'inverno, sono arrivate a 47 microgrammi per metro cubo nella centralina Arpa di Via Fatebene Fratelli e a 40 in Piazza Cadorna, poco sotto la soglia d'allerta che invece è stata superata dalla concentrazione d'ozono. 212 il dato massimo e 197 la media mobile allo Zeist quando la soglia è 180. Le peggiori caratteristiche dell'inverno e dell'estate si sono congiunte a Cremona nell'infausta giornata di ieri, peggiorando le previsioni dell'Arpa per tutta la Lombardia, eccettuata la zona alpina. Chi ha viaggiato in treno poi deve sopportare disagi ulteriori. Quattro treni soppressi sulla Cremona-Brescia ieri e oggi si sono presentati i treni diesel a peggiorare la situazione. Un vero supplizio per i viaggiatori, considerate le temperature elevate, oggi a 35,7. Cremona è la città più calda della Lombardia dopo Brescia, a 36,9 gradi. E non si parla di pioggia per il fine settimana? Ieri sulla linea Milano-Cremona-Mantova il convoglio delle 18.20 da Milano Centrale è stato soppresso per guasto l'impianto di condizionamento. I passeggeri sono dovuti scendere per il caldo insopportabile, oltre i 40 gradi, e aspettare la prossima corsa perché il capotreno non ha potuto esporli al pericolo di Malori come già avvenuto in passato. Era un treno vivalto di 15 anni, senza finestrini. Ritardi anche stamattina sulla tratta Codogno-Cremona e anche soppressioni ai bus sostitutivi. L'associazione UTP, utenti del trasporto pubblico, ha informato Trenord, Prefetture e Questure dello stato di esasperazione dei pendolari. Si annunciano azioni mirate e non violente di protesta. Qui aderisce anche l'associazione cremonese in orario con Matteo Casoni. Per chi non viaggia, il clima in questi giorni crea altri problemi. Per l'alta concentrazione di ozono alle persone fragili viene sconsigliato dall'ARP e dall'ATS di uscire nelle ore più calde. Le richieste di assistenza domiciliare continuano a crescere. Il servizio SAD del comune raggiunge 250 aziani, ma i numeri stanno aumentando e i servizi sociali constatano che la copertura è parziale. Il telesoccorso serve 150 aziani, in aumento ma pochi rispetto alle domande. Non resta che l'aiuto dei volontari dell'Auser su accorto con l'ATS e i comuni, sempre che il volontariato possa bastare.